buongiorno oggi mi trovo a sirocca d'agno e quello che vi sto per mostrare un bell'appartamento di 2,5 locali subito all'entrata abbiamo un comodo armadio a muro ed accediamo al soggiorno soggiorno con balcone come potete vedere qui sotto abbiamo subito dei posteggi comunali e a disposizione dell'appartamento c'è un posteggio scoperto incluso nel prezzo questo è il soggiorno con cucina a vista cucina completa di frigorifero congelatore lavastoviglie forno vetro ceramica lavandino e cappa e abbiamo anche una finestra e qui una penisola alla mia sinistra abbiamo la camera da letto camera matrimoniale con una grande finestra e subito accanto abbiamo il bagno bagno completo di box doccia lavabo specchiera vc la lavanderia è condominiale in questo palazzo ci sono due piani totali con un totale di cinque appartamenti ripeto che incluso nel prezzo c'è un posto auto esterno non coperto le spese sono a forfè quindi non c'è conguaglio a fine anno se ti è piaciuto questo appartamento e vuoi venire a vederlo dal vivo chiamaci ti affetto